Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati a questo canale di Battle for Games, io sono Carlo, oggi ragazzi siamo tornati su PlayStation 4 per fare un nuovissimo gameplay su Destiny, sul crogiolo, multiplayer, non so perché così a caso Forse perché voglio comprare Black Ops 3 per la Play 4 e dato che non gioco a un FPS su console, ovvero con un joystick, da almeno un sacco di anni ragazzi Voglio allenarmi, quindi ragazzi oggi perché non provare a fare una partita su Destiny per allenarci col joystick Premessa, sono smiratissimo ma proprio smirato su di quelli smirati più smirati del mondo quindi non so cosa ne verrà fuori, cioè non sono un pro drammadonna Però magari abbiamo una botta di culo e riusciamo a fare qualcosa Siamo sulla terra, vediamo cosa succederà in questa partita ma tanto... Allora, nella partita di prima c'erano 3 livelli 40 contro di me Io spero che almeno in questa, ma io lo spero proprio sinceramente, non siano tutti 40 Perché c'è, almeno datemi qualche possibilità di fare qualche kill Perché se no veramente non facciamo proprio un caspio Dietro, subito dietro così Subito dietro così Eccolo Vabbè, raga, questo qua mi ha ucciso praticamente L'ho ucciso! Incredibile ragazzi, partiamo così, incredibile alla fine Una kill abbiamo già riuscito, siamo già riusciti a farla, non so parlare italiano, eccolo L'ho ucciso, l'ho ucciso, sono morto ma l'ho ucciso, l'importante è quello, raga Mi sono suicidato, incredibile, due kill Così, a caso, non ci credo neanch'io, ma che sta succedendo? Io ho tirato prima un pugno di quelli potenti e poi una kill così, a run Eccolo, l'ho visto Occhio, occhio qua Occhio qua Occhio qua Altra killer, non ci credo, raga Che cavolo sta succedendo? Dov'è? 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 Dove sei? Dove sei? Aia Ma ha tirato un pugno anche lei adesso Ci sta, raga Cioè, tre kill Non ci credo, raga, cosa sta succedendo? Incredibile Partiamo così Però va bene, va bene, va bene Dobbiamo fare allenamento per pre-Black Ops 3 Eccolo Aia, aia, aia L'ho ucciso Scambio di barre, intanto Make 1167 Mi sta, mi sta simpile L'avrò ucciso già un paio di volte Giuro che non faccio apposta Cioè, sta venendo tutto fuori a random questo gameplay Perché è veramente Eccolo, è qui Ti vedo, ti vedo nella mappa Ti vedo Sei scomparicciuto È scomparicciuto, raga Sono dietro qua Sono qua, sono qua, sono qua Sono qua Occhio Ce li ho sopra Ce li ho sopra Li ho visti Li ho visti, li ho visti Aia Ce ne sono due Ce ne sono due Non ci credo Non ci Sono No, no, raga Sono tornato a cadere Nello stesso punto di prima Ma cos'è sta cosa? Cioè, sono morto tre volte Di quei due Perché sono caduto Non è mica possibile Però intanto l'ho fatta già fuori Mi piace sta cosa, mi piace sta cosa Primo gameplay forse decente della mia vita Su Destiny Perché veramente su console Sono un nabbo di quelli Pesantissimi E vabbè questo qua, raga Tre colpi Livello 40 Non ci credo Jarra 87 Mi ha veramente Seccato mare No, di qua non ci si passa Vediamo dove possiamo andare Come vedete Io sono totalmente nabbo Che non conosco neanche le mappe Quindi io faccio il gameplay Su Destiny Ho finito le granate Non ci credo Aia, granato Aia, aia Ma Mi ha fatto un malicane Con la sua granatina C'ha Cispar 91 E comunque Mi sembra di notare Che siano tutti i livelli 40 Anche qua Non mi sembra di aver visto Dei livelli più bassi Non lo so Dobbiamo prenderle pesanti Proviamo a prenderle, raga Ci provo Mi faranno un male No, raga C'ha il lanciarazzi C'ha il lanciarazzi Che culo, raga C'ha il lanciarazzi Recupera vita Eccolo un altro Eccolo un altro Mi ha fatto secco Mi ha fatto secco Quella là c'aveva il lanciarazzi Qua caricato in spalla Che sembrava Che avesse Che stesse sollevando dei pesi D'altanto che era grosso Quell'arma Comunque Vediamo cosa riusciamo a fare A sopra ce n'è uno No, me lo son sognato Forse Me lo son sognato Mi sa Salta Ok Eccolo Sbam Muori male Là, raga Uccisione del leader Attenzione Sono riuscito a battere Già 87 L'ho seccato Ho anche la super Occhio a questo Occhio a questo Occhio a questo Dov'è l'ostro? No, no, no Non ci credo Non ci credo Non è mica possibile Raga Ho sprecato la super così Non ci credo Ma chi Ma Stapartita si Starò anche facendo delle kill Ma Quanti fail ho fatto No, ditemelo Voglio tanti commenti qua sotto Scrivendomi il numero di fail Che ho fatto in questa partita Perché veramente Non si può vedere Qua c'è stato Sbam No Sì L'avevo lisciato Raga Ah, è già Eh, vabbè C'ha sta pistola Lui qua Che fa veramente Un male porco Ok, ce la stiamo giocando Potenziamento sbloccato Vabbè La potenziamo dopo Possiamo andare di qua Sì Eccolo là sopra Eccolo là sopra Eccolo Dai, chi li potrà Sì L'ho ucciso Fuga No, no Dietro, 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 dietro No, vabbè Io vado sempre in bocca A giarro 87 Regale Quante volte mi ha ucciso lui qua Mi avrà ucciso 32 volte Eccolo Ho fatto le granate Scambio di granate Sì Culo raga Gli ho tirato uno di quei pugni Di quelli pesanti Ok Mi sta piacendo questa partita Mi sta piacendo Eccolo Dov'è? Dov'è? Aia, aia, aia Mi ha fatto male No Come mi ha ucciso? Regà Sono morto un quarto d'ora dopo Che mi ha tirato il pugno Ok Proviamo a prendere speciali Cosa c'ho di secondaria? C'ho il cecco Il cecco, il cecco Se vabbè Il cecco regà Sono ancora più smirato Sono ancora più smirato Che con l'arma normale Quindi Non provo neanche A tirarlo fuori Veramente Allora qua ce ne è M'attenzione Punizioni pesanti disponibili Ma più che altro ragazzi Sai cosa ho fatto caso? La Intanto Faccio fuori Delle persone Ho fatto caso Che col joystick Non so dove sia questo Ah Era là in fondo Vabbè Mi scivolano gli analogici Gli analogici E quindi Non riesco a muovermi bene Non so perché Perché ho le mani Un sacco che mi sudano E quando uso Utilizzo il joystick Mi sudano le mani E non riesco a fare Assolutamente niente Recupera vita Recupera vita No vabbè ragazzi Hai due contro uno Però non è giusto Scusate Vabbè Fuoco incrociato Così a caso Comunque ragazzi Ormai mi sa che la partita È finita Forse no Non lo so Anche qua Occhio a questo Dove sei? Dove è finito? Regal Eccolo Dio Muori Grande Questi si chiamano Riflessi Non è vero Vabbè Ho avuto una botta di culo Gli ho tirato Un pugno Istant Dietro Pugno Istantaneo No Tronzo Muori Vaffanculo Ciaspar 91 Il primo Oh ragazzi Sono secondo Non ci credo neanch'io Sono secondo Mi sto sentendo potente In questo momento Cioè Sto combattendo Contro non so quanti livelli 40 Che hanno le armi Più buggate Al mondo Io sono qua Povero ragazzo Aia Sì vabbè Due colpi Due Fottutissimi colpi Non è possibile Due colpi Ci ha messo questo A uccidermi Vabbè Vabbè Ormai Dico più niente Vabbè È così destiny Però è veramente un bel gioco Ha fatto benissimo Multiplay Devo dire Allora Qualcun cam Cerchiamo di fare L'ultimissima kill Mancano 1 minuto e 57 La fine della partita Ci sono le munizioni Pesanti Allora qua Eccolo Basta Giare 87 Mi ha anche fatto L'headshot Mi ha anche fatto L'headshot C'è il mio povero stregone Lasciatelo stare Un po' Se l'avete tutti con me Ragazzi Sto facendo questo gameplay Un po' Abbiamo perso Non lo sapevo Che ho perso Però vabbè Io ho fatto questo gameplay Ragazzi un po' Per divertirmi Un po' Per allenarmi Per Come pre black ops 3 Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate Scrivetemi anche dei consigli Su come migliorate Cioè perché mi scivolano Gli analogici Sui diti Sui diti Sui diti Oh attenzione Cosa ho droppato Un casco raro E un volucro di spettro Wow mi piace Vabbè dopo vado a vedere Cosa sono ragazzi Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di gameplay così Sul multiplayer di Destiny Lasciatemi un commentino Qua sotto E iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Ci vediamo ragazzi